allora mettiamoci le cuffie si sente magari un po meglio dunque sono suonate squillate le campane di sape da pochi secondi ed eccoci quindi in diretta sono roberto ficazzolo per c'è splendore la puntata del 7 di febbraio 2021 siamo qui siamo qui a a parlare di cinema per cinema da camera fondazione fraschini l'idea ancora una volta è quella di raccontare qualcosa di quello che è successo ciao paola benvenuta anche a te benvenuta anche a raccontare qualcosa di quello che è successo questa settimana qua tra le tra le mura di casa visto che i cinema sono ancora chiusi e quindi vi tocca assorbirvi qualche consiglio per gli acquisti da parte del sottoscritto ma allora questa settimana anche un po per come dire il compleanno di un carissimo amico che è caduto in questi giorni che è un trecchiano della prima ora mi è venuta voglia di vedermi visto che sinceramente me li ero anche persi alcuni degli episodi dei film di star trek che appunto fanno parte proprio dell'ultima dell'ultimissima serie di film che sono usciti sapete che tra te che è una serie nata a metà degli anni sessanta nel 66 il primo episodio anche se nel 64 era stato come dire proposto al network televisivo e di sì una come dire un pilota della della primissima serie pilota che andò male non fu giudicato non abbastanza efficace e quindi dovessero passare altri due anni perché effettivamente poi uscisse il primo episodio all'inizio doveva chiamarsi neanche star trek ma qualcosa che aveva a che fare con con i vagon no con quindi le carovane visto che era molto in voga al tempo dicevo siamo prima della metà degli anni sessanta e 64 c'era questa serie tv sui sui una serie tv western sulla scoperta sulla conquista del west da parte dei pionieri e questa diciamo questa serie doveva invece richiamandosi a questa parlare appunto di una ovviamente anche qui una conquista di un'ulteriore frontiera questa volta la frontiera era dello spazio fa ridere pensare che il pilota sia andato male per una serie poi che è diventata così famosa così importante una addirittura delle più importanti di tutta la storia come dire anche audiovisiva mondiale e devo dire che appunto questi due episodi che ho visto che sono esattamente quello che si chiama star trek quindi in italiano star trek il futuro a inizio un film del 2009 di jj abrahams e poi star trek beyond del 2013 sono di justin lynn sono due film abbastanza diversi anche se sono accomunati dal fatto di essere entrambi dei reboot che cos'è un reboot è una tecnica trovata dagli studios che decidono di praticamente riavvolgere la storia di una serie ad esempio non dimentichiamo che la serie fortunatissima nata nel 66 nel 69 già doveva subire la serie di star trek la serie tv doveva subire un come dire un resto non se si è fermata è stata ripresa poi solo più tardi dicevo invece quando si fa un reboot si prendono diciamo le caratteristiche di una serie e si riavvolge come dire come se fosse un nastro si riavvolge la storia e la si snoda poi la si svolge in un'altra maniera in una maniera differente seguendo altri canoni seguendo altre caratteristiche fa impressione se voi digitate star trek online confrontarvi subito con una serie di termini che sono stati coniati certo non per star trek però per il prodotto tipo che è star trek per esempio se a me avessero chiesto che cos'era star trek prima di iniziare questa ricerca avrei detto che star trek era una sicuramente una serie tv non veniva da una serie tv e poi va dato luogo a dei film va dato luogo magari anche delle serie animate quindi live action eccetera eccetera se voi andate a cercare invece star trek come dire coltissima e assolutamente sempre up to date wikipedia ti dice che è un media franchise un media franchise ciao teresa ben trovata un media franchise è praticamente una come dire quando si si prende una una storia e la si rende un marchio un marchio di fabbrica da questa storia poi da questa diciamo da questo marchio di fabbrica vengono poi tutti quanti come dire si si sviluppano poi tutti quanti invece altri prodotti attenzione non per forza dello stesso tipo se per esempio il franchise parte che ne so da un film magari dal film si possono sviluppare tv serie tv si possono sviluppare fumetti si possono sviluppare videogames si possono addirittura sviluppare delle delle attrazioni attrazioni da da parco di divertimenti da parco tematico questa è una cosa molto interessante perché se poi si va a vedere in realtà i soldi veri perché si dice che il cinema è una grande industria verissimo e i budget di questi film sono budget assolutamente milionari certe volte anche di centinaia di milioni di dollari attenzione però i soldi veri e quindi anche l'impegno economico si fa sulla campagna pubblicitaria perché proprio attraverso il franchising cioè il vendere poi questo marchio a prodotti di cancelleria magliette tazze appunto giostre ai luna park video games serie tv eccetera e dal e da e partendo solo dal film e poi in realtà tutto l'indotto quello che fa il denaro vero se pensate che addirittura a livello di investimento se sono un centinaio di milioni il budget del film che viene girato e parte tutto da lì se ci pensate beh da lì in poi anche solo come investimento per la produzione di beni e quello che potete immaginare si ricava poi dalla vendita e di parecchie centinaia di milioni di euro di dollari quindi è molto interessante allora cominciare magari anche a a guardare dietro a queste cose quando io guardo un film come questi che ho appena detto no star trek star trek beyond a me viene in mente che non sto guardando un film sto guardando un media franchise e attenzione il media franchise poi ha tutta una serie di declinazioni vabbè qui per esempio si cita harry potter nasce da un libro al media franchise e poi per esempio va al cinema oppure un fumetto come batman o spider man nasce appunto dalle strisce e poi va a finire al cinema e poi magari torna anche al fumetto e così via videogiochi come resident evil resident evil parte addirittura non videogames e poi diventa una serie di film tra le serie appunto che più facilmente sono diventate altro c'è proprio star trek anche più forte di un'altra serie che sicuramente conoscete come scooby doo vabbè poi altri esempi da rock indiana jones signora degli anelli pirati dei caraibili però nascono dal cinema e diventano qualcos'altro serial e sequel sono le due forme fondamentali del franchise nel serial ovviamente si serializza quindi nasce magari in un film quindi una sola un solo episodio e poi invece il stesso episodio viene ripetuto n volte il sequel appunto è in realtà un seguito della storia qui appunto dicevo la declinazione beh per esempio se io vedo che il lavoro funziona il media franchise funziona io cercherò di sfruttarlo al massimo con gli stessi personaggi le stesse ambientazioni sviluppando la storia e chiedendo alle persone di capire quello che accadrà dopo e quindi faccio un seguito ciao lorenzo chissà se questa questa questo incontro così che faccio su su sequel prequel spin off ti piacerà oppure no ne saprai sicuramente tu più di me dicevo sequel quindi quello che succede dopo prequel perché dopo magari vari seguiti c'è la voglia di capire che cosa è successo prima attenzione non siamo sempre non siamo già nell'ambito del reboot il reboot è un'altra cosa ancora il reboot è riavvolgere quindi poi riprendere proprio e portare da un'altra parte la trama il prequel prende la trama del primo episodio e dice allo spettatore quello che è successo prima del primo episodio cioè c'è un antefatto mi ero segnato qua le altre cose allora sì lo spin off lo spin off è una cosa ancora differente perché si prende un personaggio che spesso è un personaggio minore della storia e lo si rende protagonista di un'altra storia spesso si prende per esempio che ne so di un film e lo spin off e poi magari sviluppato in una serie al tv la cosa che mi impressiona tantissimo da questo punto di vista è come si è fatto questo studio secondo me anche molto intelligente approfondito per andare a ricercare quelli che sono i meccanismi anche mentali dello spettatore e che cosa si potrebbe dare allo spettatore in modo da convincerlo a frequentare con ancora maggiore persistenza pervicacia il prodotto che già gli piace cioè questa cosa gli piaceva invece di costringerlo a riguardarsela magari per capirla meglio per trovarne altri aspetti con la paura che magari si disaffezioni io gli propongo altre cose gli propongo ciò che accadrò dopo e ancora dopo gli propongo ciò che è accaduto prima gli propongo di vedere la storia non dal punto di vista del protagonista di due o tre personaggi principali ma da un punto di vista di un personaggio secondario che guarda caso però anche lui ha delle cose interessanti da raccontare quindi l'altra cosa interessante che sinceramente vi dico la verità ho scoperto in questo caso il crossover lo conoscevo il crossover è quando non c'è proprio un remake ad esempio si rifà esattamente la storia ovviamente magari ambientandola magari un'altra epoca così però la storia è proprio quella con quei personaggi con quelle dinamiche relazioni tra di loro ma c'è un crossover un crossover è quando in realtà un personaggio che appartiene al principale che appartiene alla storia principale ritorna nel crossover con un altro ruolo ritorna nel crossover ovviamente come dire tu lo riconosci è lui ma è in una situazione che nel primo diciamo nel modello nel media franchise non era prevista ecco quindi quando tornano questi personaggi da un media franchise importante è chiaro che chi lo produce cerca in qualche maniera o di ravvivare magari una trama che secondo gli studi anche qua raffinatissimi fatti da hollywood era diventato un po stanca un po smorta un po smunta oppure metti che proprio la per esigenze anche commerciali quel media franchise lì diciamo il principale sia stato eliminato tolto non più considerato non si va più avanti e allora si usa un crossover in qualche maniera per traghettare comunque ciò che è rimasto di buono magari l'affezione che il pubblico aveva per un certo tipo di personaggio nel nuova nella nuova diciamo storia che si spera diventi il nuovo media franchise che sostituisca quello vecchio ormai ha dato tutto ha dato tutto quello che poteva vi do un'altra chicca dico la verità questa l'ho riconosciuta oggi ammetto la mia ignoranza perché secondo me c'è solo una cosa peggiore dell'essere ignoranti è quello di non confessarlo trovo che sia molto giusto dire che per carità non sappiamo nulla e anzi è bello proprio per questo essere curioso e imparare cose nuove il tie in il tie in recita wikipedia è un'opera commerciale di intrattenimento poi c'è un romanzo un fumetto un film una serie televisiva che è stata tratta con regolare concessione dei diritti da un media franchise quindi nel momento in cui io che ne so io mi voglio inventare una storia differente non per forza ributtata cioè non per forza come dire riavvolta e poi svolta in un'altra maniera non per forza di crossover quindi con personaggi che rientrano non per forza sequel o prequel o remake posso fare un tie in cioè prendo spunto da quell'opera pago i diritti per quell'opera e scrivo un'opera nuova però chiunque poi la veda di cacca aspetta ma questa cosa qua ha a che fare con star trek il tie in si distingue dalla fan fiction perché il tie in prevede il pagamento dei diritti quindi il tie in lo fa hollywood la fan fiction la fanno i fans quando un fan chiaramente non per scopi commerciali si impossessa di un media franchise personaggi trama relazioni e in qualche maniera lo emula cioè come dire anche fiero no di quello che fa perché insomma lui è molto appassionato di questa cosa quindi non vede l'ora di produrre a sua volta qualcosa magari anche di molto piccolo di solito è a livello parodistico così ma in cui si vede benissimo che c'è una citazione dell'opera beh quello è un fan è una fan fiction quindi mi raccomando la prossima volta che vi interrogo tie in e fan fiction dovete portarmi di saperli proprio perfettamente voi direte ma non ci hai detto niente dei film allora i film vi dico la verità sono stati almeno uno è stato una sorpresa e cioè non tanto star trek beyond del 2013 quindi l'ultimo alla fine che poi alla fine ma si nel 16 è uscito un altro è vero in realtà quello che mi è piaciuto di più è proprio star trek senza nessun suffisso grazie grazie troppo gentile troppo gentile qua secondo me ti sei ricordato delle lezioni al pandini diciamola tutta allora dicevo da un punto di vista come dire proprio anche di messa in scena ho trovato tutto sommato star trek beyond abbastanza risaputo non mi ha più di tanto convinto mi è piaciuto invece veramente tanto star trek o star trek il futuro a inizio perché ci ho trovato un pochettino quello spirito magari che poteva contraddistinguere appunto l'incipit di tutto no adesso non dico il primo episodio così le cage quello che adesso i fan possono ritrovare nel cofanetto quanto secondo me di più molto di più alla fine una sorta di volontà di porre le basi per una storia nuova come dire certo il media franchising è quello non c'è niente da fare non è che si può scappare però sicuramente da un punto di vista invece più come dire più 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 cinematografico anzi direi cinematico il fatto di porre le basi per una storia nuova come è nato tutto e come mai per esempio kirk il capitano kirk ha questo tipo di relazione con con l'autorità che poi quello che contraddistingue se ci pensate per tutta la serie no c'è per tutto il tempo questa volontà di dire certo la l'umanità nel terzo secolo dopo il 2000 ha raggiunto un livello di evoluzione tecnologica incredibile ma che cosa la salva che cosa la fa diversa dal se vogliamo dai robot anche più complessi che ha costruito beh probabilmente la salva e la rende più complessa interessante proprio l'istinto cioè se volete questa cosa animale che è rimasta proprio all'essere umano e senza fare spoiler del film è ovvio che è proprio nella genesi è proprio nella proprio nell'atto della nascita del capitano kirk che viene fuori questa suo questo suo odio per l'autorità e questo suo desiderio tutto sommato sempre di andare oltre di trovare qualcosa che lo spinga anche alla se vogliamo la conoscenza la bevi è ovvio che poi come dire il se volete il grande modello potrebbe proprio essere ulisse no fatti non fumo a vivere come bruti ma per seguire per tutte conoscenze giusto per nell'anno dantesco l'idea è proprio questa se la cosa importante nella vita è conoscere beh la modalità del conoscere e soprattutto la e soprattutto quello che c'è dietro cioè la il desiderio di affrontare situazioni nuove differenti che magari ti mettano anche alla prova l'altra cosa che mi è piaciuta sinceramente vabbè il ritorno qui però sono sicuro di trovare anche come dire da parte degli affezionati così una sorta di imprimatur e nel ritorno di leonard simon nimoy leonard simon nimoy è spok questo viso così strano cioè ci mancavano giusto le orecchia puntano ma anche se voi vi concentrate sul personaggio principale di spok quella faccia lì non può essere terrestre e in effetti spok è un alien e si è nato in america no però da genitori che venivano che venivano dall'ucraina da zaslavia dalla città di zazlavia in ucraina e questi due genitori come dire che non si occupano di cinema assolutamente però danno appunto al giovane leonard il desiderio proprio di recitare fin da piccolo comincia otto anni a recitare e quando appunto vabbè fa fatica anche se vogliamo imporsi nel senso che recita per tanto tempo nella sua vita parti assolutamente minori fino a che non arriva il personaggio di spok che poi spopola per la quale lui c'è anche tantissimi premi è riconosciuto e così via in questo film naturalmente il personaggio di spok trattandosi di un reboot cioè si va all'inizio della storia non può interpretarlo una persona di 80 anni no e quindi chiaramente lo interpreta un altro attore ma quando a un certo punto l'attore giovane che interpreta il capitano kirk incontrerà in un luogo particolare il vecchio spok qui non faccio poi dai una cosa è tutto il film è basato proprio su incroci temporali ovvio che una cosa leggendo va succederebbe lì è un momento di grande emozione bisogna dirlo di grande emozione se poi si sa un po si sia seguito un po la storia di questo personaggio è stato un grandissimo fumatore per tutta la vita e che effettivamente poi ha avuto questa carriera lunghissima lui era del 31 e questo film è uscito nel 9 insomma è proprio l'anno dopo pochi mesi dopo che il film esce lui si ritirerà definitivamente dalle scene nel 2010 nel 2015 effettivamente muore muore per una per le complicanze venute proprio da una malattia ai polmoni che gli è venuta in seguito a sicuramente alla lui stesso l'ha ammesso no del fatto di avere così fumato in maniera in maniera sconsiderata per per molta parte della sua vita se però consideriamo appunto che lui appunto lancia su twitter ecco che questo è notevole no prima di morire lancia su twitter questo messaggio che sicuramente gli appassionati conoscono ma magari non tutti allora il messaggio è a life is like a garden perfect moment can be had but not preserved except in memory l a ap long life and prosperity quindi la vita è come un giardino i momenti perfetti possono essere vissuti ma non conservati se non attraverso i ricordi lunga vita e prosperità quest'ultimo tweet che veramente ti fa oltre che riflettere anche un po' commuovere è quello che lui lancia proprio come dire poco prima di morire tra l'altro muore a casa sua perché dall'ospedale poi non potendo più curarlo lo riportano lo riportano a casa e in effetti a quanto pare come dire non è effettivamente se uno guarda un po' la sua attività è stato non solo attore ma ha scritto ha sceneggiato ha recitato lo sappiamo anche diretto ed è diventato anche un fotografo un fotografo ha cantato addirittura ha inciso un album e un fotografo quindi con appunto mostre personali al suo attivo quindi un personaggio veramente a tutto tondo che possiamo dire ha reso anche probabilmente nella parte di Spock l'abbiamo detto no questi sono e va benissimo e ci mancherebbe prodotti di consumo assolutamente l'abbiamo detto sono studiati per piacere hanno il colpo di scena a un certo punto sono la recitazione deve essere assolutamente di solito è molto stereotipata e allora perché perché ci rimane in testa il personaggio di Spock che poi non è nemmeno il protagonista assoluto ci rimane in testa proprio perché riesce assolutamente a ricavarsi una una sua nicchia di tutto rispetto è una cosa sulla quale riflettere questa cioè non importa quanto sia magari piccolo il tuo ruolo e a questo in proposito fa ridere che adesso non ricordo più se in Star Trek il futuro ha inizio o in Star Trek Beyond proprio se ci fate caso riconoscete dentro dietro il trucco di uno degli ufficiali rumuliani riconoscete forse allora Star Trek il futuro ha inizio riconoscete un Jeff Bezos Jeff Bezos che probabilmente ha contribuito a pagare il film per divertirsi ha fatto un cameo sapete il patron di Amazon ha fatto un cameo come nel ruolo di un ufficiale rumuliano quindi mi raccomando andateci per cercare Bezos ecco dicevo a parte Bezos non è tanto importante la lunghezza l'importanza così della dell'interpretazione della parte che hai nel film ma è quello che tu ci metti dentro è quello che riesci a comunicare magari anche in poco tempo e a questo proposito visto che ormai è diventato una specie di must parlare di almeno tre film io ne avevo tanti questa settimana di cui parlare voglio però collegarmi in maniera molto molto netta a un altro film dove allora vabbè nei due film che ho parlato sono nella serie Star Trek non so sapete Patrick Stewart Picard è decisamente un ruolo come dire è un attore che ti rimane in testa non tanto in questa serie quanto in quella precedente ecco attenzione perché e questo ha a che fare con il titolo della diretta quella che ho lanciato prima su Facebook ecco c'è questa diciamo c'è questo film che si chiama Criminal Activities e Criminal Activities è un film molto più recente esattamente allora Criminal Activities eccolo qua è un film aiuto non l'ho scritto vabbè comunque molto recente del 2016 forse non lo so poi ve lo dico Criminal Activities è un film invece di Jackie Earl Halley e qui sempre riguardo a chi sta dietro la macchina da presa e chi sta davanti io sapete sono pochi quelli che riescono a fare le due cose non so Nanni Moretti dietro e davanti Woody Allen dietro e davanti la macchina da presa questo Jackie Earl Halley lo trovate nel film anche io vi sfido a capire chi è il regista di questo film che è anche lo sceneggiatore cosceneggiatore del film di Criminal Activities che è un film assolutamente non è una stupidaggine dateci un'occhiata è un film appunto con John Travolta è un film che parla di mafia è un film che parla di diciamo polizia parla di corruzione parla di amicizia parla di bullismo al college parla di tantissime cose non è un film per esempio in cui fabula e intreccio coincidono che dall'inizio va fino alla fine c'è ci sono parecchi flashback ci sono parecchi racconti direi tongue in cheek come dicono gli americani come dire cerca di capirmi di quello che ti sto raccontando ed è un film in cui è metacinema metacinema dall'inizio alla fine è un film in cui si parla di cinema in cui si parla di racconto in cui il racconto stesso si arrotola su se stesso proprio su come dire a una sorta di misanabim per cui tu non sai più davvero dove stai andando sapete la storia dell'insetto che sta girando nel lavandino tu lo guardi dall'alto e sei così cattivo dall'aprire il rubinetto e vedere questo insetto che fa dei giri come dire sollevato dall'acqua sempre più stretti intorno allo scarico ecco e poi alla fine sai già che lui sa già che andrà giù cioè c'è poco da fare beh questa misanabim nel film è notevolissima è anche rappresentata come lo vedete attraverso uno specchio d'acqua tra l'altro e la misanabim secondo me è molto bello anche perché è una specie di sfida che si fa allo spettatore di capire i veri caratteri dei personaggi che ha davanti e quanto questi interpreti in una parte all'interno del film non dico di più perché il bello è proprio quello voglio che appunto lo scopriate da soli assolutamente è la cosa da fare vi dico solo che il legame con Star Trek è geniale il legame con Star Trek è geniale e sinceramente ho voglia anche di lasciarvelo scoprire da soli e ha molto a che fare col metacinema quindi l'idea è se non conoscete Star Trek cosa che è impossibile andate a vedere di qualcosa magari anche proprio dell'ultima parte gli ultimi tre film reboot se vi va perché no affrontate anche altri reboot per esempio uno dei reboot più interessanti è quello che ha coinvolto il media franchise di Godzilla Godzilla all'occidentale Godzilla in giapponese mi dicono e magari ne parliamo la prossima volta di questo però e trovate qual è il legame tra una serie filmografica di Star Trek e Criminal Activity di Jackie Earl Halley il quiz adesso anche il quiz cosa cosa volete di più non vorrei aver turbato troppo il vostro aperitivo soprattutto quello di Lorenzo gli voglio dire che questa settimana mi sono procurato anche io le patatine purtroppo la birra no mi dimentico sempre ma le patatine ce le ho e me le mangerò lo so che fa un po' schifo con il succo di mela buona serata